Venerdì 5 maggio alle 20.45 presso la scuola Dante Carducci in via Piatinove a Piacenza ci sarà questo terzo incontro della scuola Genitori di Piacenza con un tema veramente importante di grande interesse per i genitori, educatori ma anche insegnanti, preadolescenti in difficoltà. Ne parliamo con la pedagogista Emanuela Cusimano. Ciao Emanuela, bentrovata, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Allora Emanuela, affronterai durante questo incontro di venerdì 5 maggio un tema veramente molto importante anche e soprattutto per i genitori, preadolescenti in difficoltà. Sì, i preadolescenti in realtà sono un'età di mezzo tra l'infanzia e l'adolescenza, di cui tanto si parla. Invece dei preadolescenti, che è l'età che va dagli 11, diciamo ai 14 anni, ecco a volte in pochi se ne interessano e quindi a noi piace dare un supporto in più ai genitori per capire che cosa succede ai loro bambini che crescono e diventano più grandi e che proprio nel passaggio dell'estate tra la scuola primaria e le scuole medie iniziano a dare dei segnali di cambiamento importante. Quindi ci ritroviamo ad avere non più i nostri bambini a casa ma dei ragazzi e delle ragazze che stanno crescendo e stanno cambiando. Ci sembrano un po' degli extraterrestri, non sono più i nostri bambini e quindi la domanda è cosa gli sta succedendo e che cosa possiamo fare. Ma è vero che ad oggi rispetto magari ai nostri tempi gli adolescenti sembrano già più grandi di quello che eravamo noi con la stessa età. È vero o no? Si sta tendendo a crescere prima? In realtà il cervello e i processi neuronali non sono cambiati e quindi non abbiamo fatto dei passi differenti a livello biologico e di crescita. È cambiato tanto l'ambiente che ci circonda, gli stimoli e quindi questo fa un po' la differenza. Ma anche le scelte dei genitori e quindi quanto in qualche modo li rendiamo autonomi oppure no. Perché ci sembrano tanto grandi ma paradossalmente forse eravamo più autonomi noi 10-20 anni fa e meno coccolati di quello che sono oggi i ragazzi e le ragazze. Avevamo magari meno agi e quindi più autonomia e più responsabilità. Quindi c'è da capire come aiutare i genitori in realtà a non trattarli più come bambini ma iniziare a trattarli un po' come dei ragazzi e delle ragazze più grandi e quindi dando loro volta per volta delle responsabilità. Tenendo conto che il loro cervello, come parleremo appunto venerdì sera, non è ancora prontissimo, è immaturo. Quindi c'è da capire appunto come muoversi. Non sono così grandi come sembrano. C'è bisogno di un sostegno ancora da parte degli adulti. Si parla molto, per concludere Emanuela, si parla molto del modo in cui parlano gli adolescenti che a volte noi adulti non li comprendiamo, no? Perché utilizzano una terminologia troppo all'avanguardia forse, non lo so. Sì, ci chiamano boomer, giusto? Sì, appunto. Sì, ecco, bisogna effettivamente conoscere quello che è il loro mondo. Quindi informarsi è la cosa, è la mossa principale e più importante perché rischiamo di avere dei ragazzi e delle ragazze più competenti di noi, soprattutto sul mondo del digitale. Quindi siccome la responsabilità è ancora nostra degli adulti, dobbiamo sapere a cosa vanno incontro e che mondi vivono e soprattutto anche capire quello che ci dicono. Quindi è fondamentale tenersi un po' al passo con i tempi. Poi ogni tempo è proprio della sua generazione, della sua età, quindi ci sa che non capiamo proprio tutto. Però ecco, sintonizzarsi è importante senza diventare amici dei propri figli. Ecco, di questo parleremo, come tenere duro sulla differenza, insomma, di responsabilità. Ecco, non siamo pari dei nostri figli, abbiamo un'età diversa. Assolutamente. E allora, se siete incuriositi ed interessati a questo argomento, questo tema veramente che è importante per tutti quanti, tutti quelli che sono genitori, allora l'ingresso è libero e gratuito. Vi ricordo, venerdì 5 maggio alle 20.45 presso la scuola Dante Carducci in via Piatti 9 a Piacenza. Ringrazio veramente tanto la pedagogista Emanuela Cusimano. Grazie Emanuela, buona giornata. Grazie a voi. Ciao.